amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento con la serie world of tanks come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche del canale i sostenitori e tutti naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social come sempre vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare il link dei miei canali social troverete un link che vi permetterà di acquistare film ora il software per la creazione dei video oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito dei piani bio www.ipianibio.it mi raccomando visitate il sito internet e soprattutto acquistate con fiducia vai allora ragazzi andremo appunto ad andare avanti con la carriera questa qui della the world of tanks allora innanzitutto mi auguro che abbiate passato un bel periodo naturalmente vi auguro che abbiate passato buone ferie e tutto quanto allora ragazzoni aspettiamo un attimino una cosa e sono subito da voi ok io direi che tutto sommato possiamo anche andare avanti iniziamo la nostra bella scucataus hashtag scucataus iniziamo vai here we are born to begin saluto naturalmente tutti quanti voi che mi avete contattato durante questo periodo lungo periodo di pausa ovviamente diciamo che mi sono fermata un pochettino per questioni così va bene ho detto questo vediamo se riusciamo ecco qua non si fa saluto senza perre saluto naturalmente i moderatori ancora una volta mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto soprattutto voi amici ed amiche di youtube speriamo di non fare una fine un po' casino questo ovviamente potrebbe essere una trappola in molti infatti utilizzano queste tecniche per dissuadere e distrarre gli avversari non 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 è abbiamo We didn't penetrate their armor. The engine is smoking. Now when you go through, the commander is knocked out. Penetration. We didn't penetrate their armor. We didn't penetrate their armor. Enemy armor is damaged. One of our tracks is damaged. Lie. We're immobilized. We're dead for. Everyone get out. Same time you're muffled. Pass it up. numerous dogs used up to Scriptures weigh in. Follow me as to salah. And I have never heard of myself music. Grazie. Grazie. E va bene, andate così. Grazie. Ok, abbiamo guadagnato 5600 monetine, 126 punti. Grazie. 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 Grazie a questo video, se vi sta piacendo, passate a seguirmi anche su Twitch, che è come sempre. Vi ricordo che trovate il link nella descrizione del video. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Via. Tozzi Fan. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e questo è la prima volta che ho riuscito a fare una distanza e questa è la prima volta che ho riuscito a questo mapa è vediamo se riusciamo a distrarli and let's see if I'll let them up from the repairing places oh oh Gigi e and 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 FNS GG È stata dura ragazzi ma ce l'abbiamo fatta GG 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 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 Grazie a tutti. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche altra cosa. Allora diamo un attimo al magazzino cosa ci dice. Allora questo no aspetta fammi vedere se lo posso installare però. I fornimenti no questi missioni no. Allora torniamo in officina e vediamo un poco. Allora. Ecco una cosa che ho notato è che è possibile praticamente vendere l'equipaggiamento utilizzato in precedenza. Allora questo quando era costante. Uila moreno carissimo buon pomeriggio a tutti e tutti. Facciamo una bella scoccatella di mani al nostro Morenaus. Buon pomeriggio a te e buon inizio della settimana. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a te. Per fare il tifo. Grazie. E tornato sulle mani faccina che ride a crepa pelle. Grazie Moreno. Thank you so much my friend. Amici di YouTube mi raccomando passate nel canale di Moreno ma naturalmente anche voi amici di Twitch mi raccomando fate un saltino subito e subito. A volo a volo a volo perché naturalmente il nostro Moreno vi farà divertire. Mi raccomando un bel saluto al nostro Morenaus e naturalmente approfitto anche per salutare anche l'amico Emanuele Omblitz. Saluto anche Bob Art DJ oltre naturalmente al mitico DJ R80 insieme al mitico Machu King al nostro mi sta scordando insomma come sempre vi invito a dare un'occhiatina ai canali consigliati sia su Twitch che su YouTube naturalmente. E vediamo. Facciamo un'altra scuccatella di mani al nostro Moreno che ci è venuto a trovare. Babbo, comunque detto questo andiamo avanti perché abbiamo potenziato il nostro carro quindi teoricamente caro Moreno dovremmo riuscire a fare qualcosa di meglio anche se diciamo che sono io che sono un po' scarsino. Emanuele Omblitz Emanuele Omblitz Emanuele Omblitz Emanuele Omblitz Ah, perché giustamente. Aspetta un momento. Un momento. Un momento non si può prendere. Emanuele Ombitz Emanuele Ombitz Emanuele Ombitz Emanuele Ombitz Ok 60 e 20 Perfetto Non ce la facciamo Cacchio Allora fammo avanzare Di carro costano troppo Quindi mi sa che Ci andiamo così vai Dobbiamo recuperare un po' di spese Hashtag Ginger Ozzo Come suggerisce il nostro Morino Morino poi per quanto riguarda Quella cosa là se ti servono Altri file me lo dici Così io Li registro Ovviamente mancano Quello che ti ho lasciato nel messaggio Quindi devo rifare un po' di cosuccia Che tu magari così Le tieni in archivio che se ti servono Ce l'hai già belle e pronte Per Per l'us Per l'us Fammi sapere che ho un po' di anticipa Ovviamente Così Comunque se c'hai Grazie Se riesci a trovare Un effetto telefono Grazie grazie Dicevo che se Comunque Se riesci a trovare Nell'equalizzazione Un effetto telefono Poi eventualmente Aggiungerlo a quelli file Altrimenti potrebbero andare bene Anche così Perché non sono riuscito A simularlo L'effetto telefono Poi gli amici di YouTube Naturalmente Lo sapranno molto presto Di cosa si tratta Chiediamo a Moreno Quando è che prevede Un'eventuale uscita Del video house Allora Vabbò Concentriamoci un attimo qua Perché Altrimenti qua ci fanno La bellaccia Cos'è Mi è sembrato Ah sto là dietro Ok Allora vediamo Oh Visto che Stiamo facendo Una capuzella Hascapuziato Hascapuziato Ah ma quando stiamo Su YouTube Ok tu fai con calma Perché vedi che Stavolta è un po' Più complicata Del solito Quindi Ah ma ce ne sta un altro Alla ce ne sta Vedi Eh ci credo C'è una scisa salute Vediamo se ce la caviamo O no Mi sa che stavolta Ci fanno Belli Guardare Chi ci stava Dai 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 Veloce 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 Aia Mi hanno fregato Sì sì Infatti stavolta Mi sono organizzato meglio Ci ho pensato dopo A Metterci I numeretti Allora Quello è dove che stava Eccolo là Ovviamente Leggi sempre Il titolo per intero Perché Ti aiuta anche un pochettino A A focalizzare A capire più Ti ho dato un Un impronto Hai capito Per Anche per Facilitarti il tutto No vabbè Tu mi dici Eventualmente Se ti manca qualcosini Io Vedo se riesco a farlo Tranquillamente Oh Questo non si alza Ok Questa è la qua Sono colpita Ma Uh Caspito Ci stavo vicino Ci stavo Ci ero quasi Eh ma Questi sono Super organizzati Allora Ok Quello là colpito Come ci sta chiesto Vediamo se Questo è con l'artiglieria Oh C'è un'altra Artiglieria qua Ah Stava l'artiglieria Drive on Vai 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 Cici Vai vai Uuuuuh C'è Ci sta qualcun altro Di qua Che Vai Tuzzo e tuzzo Qua Ne sono È rimasto Un carro Troppo pesante E credo Due Carri Medi Leggeri Let's move E chissà Dove si è imboscato Hashtag Dove si è imboscato Ovviamente Per gli amici di youtube Riprenderà anche La serie dedicata A 3D Life Simulator 2 Per gli amici di twitch Naturalmente Vi invito a passare Nel mio canale YouTube E a Seguire la serie Di 3D Life Simulator 2 E approfitto Naturalmente Per salutare E ringraziare Gli sviluppatori Della DNA Army Per avermi concesso La chiave di gioco Naturalmente Vi ricordo Di visitare il sito www.ipianibio.it Nella descrizione Troverete anche Il mio link Di affiliazione Con Filmora Con la Wondershare Che vi permetterà Di acquistare Il Filmora Con un 5% Di sconto E poi ci dovrei Fare un marameo Alla mia prestazione Però dai Ci facciamo Una scucatella Di mani Inveritata Inveritata Grazie Moreno Thank you so much Ah Mi sono dimenticato Di attivare L'altro coso Però va bene Così dai Mi devo organizzare Un po' meglio Applausi vai Applausi per Moreno Zio Ciccino Sempre Sessato Di me Allora Ah i consumabili Ecco Questi ci mancavano Allora Quanto ci abbiamo 21.000 Quindi No Non si può fare niente No Vabbè Allora Consumabili Ci mettiamo Gli Spaghetti House Ok No Non ce la facciamo Siamo proprio Con la Con la gula Eh sì Aspetta Però possiamo mettere La benza qua Eh questo sì 5.000 Ah ma Per quanto ci costa E tuzzo E tuzzo Moreno Hashtag E tuzzo E tuzzo Ah Ui ma che qua Tutto all'improvviso Di punti in bianco Poi lo sistemiamo A pandozzo È parecchio tempo Che non Non basta Per di qui Pandozzo All'iscia Carcarozzo Ui pandozzo Ti ha offerto All'iscia Carcarozzo E tu ne hai fatta Manca l'iscia Carcarozzo All'uomo Non ti preoccupare Amorino Ci ho pensato Io E tuzzo E tuzzo Oh yes Oh yes Ispettore Tabra Rapporto Signore Ah no Quelle È caporal tabra Rapporto Signore Anzi Lanciere Ma Qua secondo me Ci faranno Un'altra Trotta La pellazza Hanno fatto bene Quelle che si sono In boy skating E Che questo è diverso Da world of tanks Blitz Infatti Sono poche ore Che lo sto Iniziando a giocare Quindi Non ci capisco Ne merita Mazzarella Hashtag Mazzarella Che non è la Mozzarella Allora Questa Sta puntando Di là Quindi Non passiamo Sulla linea Di tiro Perché altrimenti Poi ci Ci mette Ci mette Il fagiolino Vai Papo Vabbè Ho capito Mi devo offrire Io voglio andare Vi devo offrire Io Caricato Navara Sì Ma è tutto questo Oh Hashtag Prendetelo Hashtag Vai Oh Caspiterina Per tindirindozzo Eh Ho fatto bene A muovermi Vediamo se riusciamo A ricoglierlo No Non ci siamo riusciti Vai Ah Ah facci Vediamo se qualcuno Spala Oh Corpo di artiglieria Uh Caspiterina Ah Quello è un cacciacarri Vedi Quello è un colpo E mi fa fuori Ecco Vediamo se qualcuno Si degna Mettiamo Questi A carica Con l'esplosivo Non l'abbiamo Non l'abbiamo Nemmeno Graffiata Titta Guarda C'è La miseria E questo Mi sta aspettando Però Un colpo E abbiamo fatto Pure la fiesta La fiesta Fiesta C'è miseria Che sta Aia Mi hanno freghetto Mi hanno freghetto E questi cacciacarri Eh Questa è andata Proprio a ingastrare Eh No Ma Aspettiamo Ti do io le coordinate Vai Anzi Più che là Qua in mezzo Ecco vai Un colpo Alla in mezzo Uh Ci siamo quasi riusciti Artigliere 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 Mannaggia Ah ma questi Stanno dormendo Vediamo se c'è qualcuno Oh Senza volerlo Indicipato In movimento Eh sì Uh Ma Ma non capite Ma c'è sta L'artiglieria Nemica Ok Sta per Partire L'artiglieria Facciamo così Vai qua Oh ma Ora non va Vedi Gli artiglieri C'è Non lo so Eh come faccio Quelli Quelli stanno Alla stanno Sta l'artigliere Con il cecchino Ma Ah Eccolo Vedi Ora ho visto Guarda l'arostano Morì Ma dove capite Ehm Grazie E grazie Gli hanno Gli hanno Aggirati Aggirati Un po' di qua Un po' di là Ah gira di qua Ah gira di là Perché il carro Si deve Ricordare Fammi vedere Se mi riesco a spostare Allora Questo sono io Andiamo Ah questo Sopra la montagna Ah Questo è il bassotto Mamma mia Che rugna C'è miseria E questo E infatti Come non detto Si è fatta La cartella Si è fatta La cartella E tutti E tutti Si è fatta La cartella E che stiamo Stando da qualche parte Qua No Eccolo Vediamo se riusciamo A vederlo Vai vai Come si chiama Quello Crystal Ah eccolo L'artigliere Ma questo Non è artigliere Si Credo sia Wow Amici Era Artigliere Sera Ja Hallo E già Quello è il carro pesante Che mi ha fatto fuori Pure a me Peter Sellecht Dice Che non è come Su Fa Ah Attenzione ragazzi Perché Questo è rimasto Da solo Quindi vediamo Se riusciamo A dargli una mano Allora Ho visto Che stava Da qualche parte Vediamo Se lo riesco A vedere Da qualche parte È là Ah E vabbè Stila B Scucca tozza Di mano Vai E vediamo Un pochettino Se riusciamo A mandare avanti Un po' Il progetto Qui E tu E tu Trimo Trimo E tu E tu E tu A breve Mi sa che Riprenderò Anche con la serie Di trader life Solo che Un attimino Prima focalizzare Su Sulla situation E poi E poi E poi E poi Lo Lo Riporto Un'altra volta Un'altra volta Ehm Aggiornamenti No Mi sembra Di no Mi sembra Di no Devo dare Un'occhiatina Nel loro server Discord Perché È parecchio Che non ci passo Là Quindi Effettivamente È parecchio Oh ma Guarda Sarò sincero Mi sta Garbando Parecchio Eh Bello Complicatuccio Sembra Banale Ma non lo è L'ho detto Perché Devi Una volta raggiunto Il livello Poi devi subito Sbloccare Quindi Alcune situazioni Devo prima Preventivarle Quindi prima Anticiparle E poi dopo Le posso Anche Ehm Diciamo così Portare avanti Devo andarla a vedere In realtà Ho intravvisto Con la coda dell'occhio Come il mio solito Ehm Il Il canale YouTube Aspetta Mo pubblico Pure il Video che è emesso Vediamo un po' Eccolo qua Allora Il moreno Senza che Mo si sente L'attacco Ok Allora Mo metto il link Così Magari Gli amici Di Twitch Che Si guarderanno Questo video In replica Magari Ci vanno a fare Un saltino Oh Ehm Mi sa che Dopo me lo vado a vedere Pure io Ho finito qua Poi Mi riorganizio Allora Vediamo un po' Riparazioni Come siamo messi Come siamo messi Allora Non necessita Nessuna riparazione Ok Personalizza Non ho trovato Niente di interessante Perché per il momento Sto proprio all'inizio E quindi Non riesco a fare Le cus Le cus Le cus Come sto facendo Sto mettendo La testa a caldo Qui Sotto il basco Perché dovete sapere Che questo basco È vero e originale Incluso il fresco E questo basco Scelò Da più di 20 anni Scelò dal 1999 Tuzzo e tuzzo Aio È proprio vecchio 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 E Salutiamo Mister Murino E Ti piace Ti piace La cipolla Ti piace La Ola Ola Canuccia Orta Orta A proposito Saluto anche Il mitico Neo Fernbus Ma anche Il mitico Fernbus Che sono E lo stesso amico L'amico Mauro Che saluto Naturalmente Vi invito A passare Il suo canale Saluto Anche La mitica Guerriera Underscore GG Con La nostra Jenny E la nostra Mitica Gaia Kase Tengli usamash Ma io Oh Oh Quei scienze Questi Sdivertoni Per gli amici Di youtube Hashtag Morenaus Mi sa che è un po' lungo Quindi sarà un po' difficile Che qualcuno Si metta a scrivere L'hashtag Comunque Gli amici di youtube Come sempre Vi ricordo che voi Troverete I sottotitoli Quindi non vi preoccupate Ovviamente Lo ziodab Qua Hashtag Ziodab Si va prima a correggere La scritta La La traduzione La scrittura In automatico In italiana Poi ovviamente Pubblica La traduzione Perché Perché Praticamente A volte Scrive le parolacce Oh Ascina miseria Voglio Avanzare Caricata Caricata Navara Voglio Non vi fermate Voglio Non vi fermate Aia Ma St'articchieri Ci ha rotto Proprio Il stasiccello Qua ci abbiamo Un tank destroyer Un carro Di strutture Ma E' una cittura Oh Ora l'ho visto Ora l'ho visto Voglio Dobbiamo Beccare L'articchieri Vai giù Dobbiamo Beccare L'articchieri Altrimenti Siamo fregati Ascita Becchiamo L'articchieri Eh qua Siamo a Tre Contro Sì ma L'ha Ci sta L'articchieri Noi no Con le strisce Oh Ma Di Allineamento E copertura Mettiamoci Dietro Dietro Il carro Qua Ecco Ecco qua Mi sono creato Un poco Di copertura Vabbè Dai Domani Oh Però Percentuale Di vittoria 54% E' una bella Percentuale Allora Io non ho capito Dove sta Comunque la sta Che li Parta là L'articchiere Eh Ma sono diventati Invisibili Ah Rostan Allora Vediamo chi sta Più vicino Ah Vediamo Oh Sta qua Sta Ah Eccolo L'articchiere Fetuso Hashtag Articchiere Fetuso Sì sì E' proprio lui Quell'articchiere Fetuso 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 Vai 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 Oh Ma nessuno Mennaccia La miseria No Non fa Non fa Non fa Fino Dai 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 Ma 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 Che Schillis Licky Licky Dex Nenaz Aiuto Aiuto Asta Porva Giù Vai vai Dai Una bella Ah Giusto Così Giusto Così Qua ci vuole E' proprio una bella Sciuncatella Giovanni Perchè Ha fatto Ha fatto Una bella Cosa Bravo Gli scrive GG Pettia 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 Ogni tanto Un bel Gigi Ci vuole Hashtag Zio Gigino Eccolo Lì Ne sono due Mamma mia Ma che carro è Allora rimane Un carro pesante E tre carri medi Noi ci abbiamo Penso Due carri Cacciacarri Un medio E' un pesante Vai vai Dai 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 come on Come on E tuts E tuts Oh yes Oh yes Dai Pettia Dai Pettia Uh Giriamoci Eccolo Lì Uh Sconfitta No Ok Moreno Ok Moreno Vai tranquilla Non ti preoccupare Buona carica Merendori A tuts E tuts Thank you so much For passing here Don't forget To follow The channel Of my friend Moreno E tuts E tuts Daniele Carissimo Da quanto tempo Mua Mitico Il mitico For Daniele Welcome back My friend Albissardua E guenda Comandi Signor Signor Da quanto tempo Anzi in realtà Sono io che da un bel po' di tempo Non tornavo più su Twitch Diciamo Sia per questioni Diciamo personale Ma anche perché Non avevo più Quella Quell'ispirazione E notavo che i miei contenuti Stavano perdendo Assai 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 Di qualità E quindi mi sono Completamente fermato Caro Daniele Onore e piacere Di averti qui con noi In questo momento Ci dovrebbe Usi il condizionale Ci dovrebbe essere Il nostro Moreno E tuts E tuts E poi Ci sei tu Ci so io Ci sono i bot di Twitch Che ci fanno compagnia Che ci Ci tengono a sicuro Oltre naturalmente I moderatori Quelli E tuts E tuts Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Un pochettino Dilettando Con World of Tanks Che c'è anche Il drop on Quindi si Se vuoi Seguendo La live Potrai Accedere a Tutta una serie Di vantaggi Che sono Praticamente Delle munite E poi tante cose Che ti permettono Di poter Acquistare I carri Ma anche Per poterti Spendere Un pochettino Quindi E' tutta una cosa Bella Una cosa fresca Bella A proposito Saluto anche Mira Lo puoi ricordare Ma io saluto Il mitico Cirillo 1976 Ma questo Ci ha Ci saluto Però Allora Fammi Cosa Questa Ma Ma è quella Quella Stupida Della mia Allora È stupido Però Non c'è Poi le strisce Ci pare Che non Ti inventi I proiettili Ma Ma Che sta Passando Mi sa Che c'è Un carro Troppo pesante Qua Non vorrei Dirlo Ma C'è Ma Che impressione Che Ok Questo È fatto Per Dobbiamo C'è C'è Un artigliere Che Che sta Appondando Quindi No L'ho L'ho Quasi Visto Sto 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 Alla Tiro Sto Un 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 E E Va Bene E Va Vabbè, mi viene un po' che tu, o fratattuoglia. Dormano, l'agenda dormano. Eh, che vabbè, che si mettono a ca, è normale che è. No, che fai? Vai, un colpo di artiglieria, sì ci sta. Male non gli fa. Bravo, GG. Un bel GG a Prodox. Aspetta che non sta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, va bene, uh, c'è un stanno dritto. Aspettate, ho visto che è qualcosa, ho sparato da là. C'è qualche artigliere. Ok, GG. Ottimo. Allora, non è spazio qua. Ottimo. 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 Che trammata. ecco mo si ferma proprio la vai un colpo di artiglieria vai ah ecco l'artiglieria sta là dietro sta vedi ma scusate ma c'è quel tizio che ci sta ui carissimo cristal buonasera a te carissimo e bentornato ci dovrebbe essere con noi il mitico morenaus hashtag morenaus anche il nostro fortanile e tutta la compagnia cantante tutto bene carissimo spero lo stesso perché porto a ci siamo mi sono fermato per un po' di tempo perché non avevo più l'ispirazione quindi praticamente mi sono fermato mi sono dedicato un po' youtube e quindi la situazione tutta bella tutta una cosa bella tutta una cosa fresca spettissimo so che sta all'interno ah sta sta in lurk sta sta facendo sta facendo carica merendoria mi sa eh che stanno gli artiglieri c'hanno ma eccolo dove cacchio sta vedi quell'altro che stanno là stanno facendo i gamberozzi mannaggia sono rimasto gli ultimi due dimmi tutto caro si dimmi come posso aggrabarti aiutarti e vabbè questi con un colpo di artiglieria grazie e ora pure io poi mi devo organizzare più là non sono un seguitore di questo programma però ne ho sentito parlare in qualche occasione ho sentito anche alcune alcune alcuni battiti diciamo sì alcune argomentazioni questo che c'ha e vabbè dimmi dimmi tell me tell me why ma la 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 i ma la 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 sav now dov'it via don Ah, non sono io, non sono io, diciamo che è un caso di omo vocivia, vocivia. Allora, vediamo un attimo, questo costa troppo, non si può dire, devo togliere il rifornimento automatico. Vediamo un po', che non è quello che in lingua napoletana si dice alluccare, cioè gridare. Ok, no, non è questo, vediamo un po', se mi ricordo, ah, ma quasi quasi ci facciamo una missione, vai, ci facciamo, giusto. Allora, vediamo un po', facciamo topografia, ecco, facciamo un po' di addestramento, vai. Facciamo un po' di addestramento formale. Ok, andiamo alla seconda missione, vediamo un po' se riusciamo a risolvere. Il problema, ma il problema è che a volte bisogna fare proprio il contrario di quello che dice la voce guida. Vediamo se riusciamo a completare la missione, vai. Allucca, 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 mi raccomando, fallo con una voce alta, alluccare in lingua partenopea significa urlare. Allucca, allucca, no, io non posso alluccare perché la mia voce fa pena, a parte che poi non mi sembra il caso di entrare nelle case, nei dispositivi degli altri, allucca, no. Allucca, no. Destroi il target, oh, yeah. Boom. Andiamo a fare se riusciamo a fargli partire un colpo. Oh, dai, spara. Lella, spara. Spara, spara. Spara, spara. Lella, spara. Spara, spara. Boom. E' tutta colpa sua, vedi, Crystal. E' tutta colpa sua, io gli ho detto, non sparare. Perché io ho mangiato i fagioli. Ai, ai, ai. Aspetta, questo, sì. C'è un mosso che è un po' di benicchino. Uuuuh, vai, penetration. Boom. Ma io gli ho detto, ragazzi, non sfidate al zio Dabba perché in lancire con la... Vai, ma, spara, spara. Bello, spara, spara, spara. Spara, spara. Boom. Penetration. Spara, spara. Spara, spara. Spara, spara. Boom. Non l'abbiamo nemmeno graffiato. Boom. Oh, yeah. Ok. Crystal. Grazie, naturalmente, di essere passato a soldarmi, naturalmente. Ti amo. Una buona continuazione di serata, naturalmente. E quando vuoi, torna a sta casa, aspetta a te. Hashtag torna a sta casa, aspetta a te. Boom. Uno. Andiamo se mi ha visto. No. Nein. Saka chippen. Boom. Oh, questo sta proprio proprio da qua dietro. Boom. Penetration. La, spara, spara. Spara, spara. Spara, spara. Boom. No, l'ho manchata. I missed the shot. Doom. Boom. L'è l'espa. L'è l'espa. Boom. Boom. Ora siamo messi, non bravo bene, eh. Non bravo benissimo. Oh, cacchio, piderino. Boom. Penetration. Penetration. Bello, bello. Vai, gg, vai. Boom. Boom. Bomba sganciata. Allora, qua come siamo messi? Oh, uno sta qua dietro. Ok, vediamo se riusciamo. Boom. E, oh. Ok, perfetto, vai. Tutto se convica. Vai. L'è l'espa. L'è l'espa. Boom. Eccolo là. Oh, tra l'altro. Facciamo così. Ecco qua. Oh. Damaged. Boom. Do a penetration. All'ready. Oh, yeah. You need to reach the firing line and destroy all targets. Yes, sir. As you wish. At your command. As you wish. Caricato. Nobara. Siamo messi abbastanza avanti. Ah, lo diamo. Fuoco avvolando. Faccio, lo faccio. Boom. Ok. Enemy armor destroyed. Allora, questa dove sta? Oh. Oh. Oh, attenzione. Purtroppo il mio mouse non è proprio il massimo. Purtroppo c'ho questa difficoltà. Che non è. Boom. Oh, yeah. Oh, yeah. Dai, su. Two more. To go. I was doing, bro. Sare i carri dell'artiglieria. The green. All targets. Reach the firing line. Ok, roger. Roger, commander. As you wish. Yes, sir. Destroy the target. Boom. Boom, madame. Boom, madame. Boom, madame. eccomi ma devo staccare ci sentiamo ok oui morino grazie grazie per il supporto al canale aspetta un attimo fammi finire un attimo qua ti così poi ti saluto ti saluto come si deve in maniera giusta guarda questo sta all'asta sta sottoposto e bello dobbiamo girare il bersaglio andiamo eccolo no no troppo alto uno dai 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 l'ultimo e l'ultimo yes gg grande grazie murino grazie ancora di essere il pezzetto e salutami amici di youtube naturalmente andate nel canale del nostro murino iscrivetevi attivate le notifico e se non avete comprato le cozze naturalmente a cattaville ciao murino grazie ancora di tutto thank you so much my friend andando facciamo una liscia carcarazzo strategico stiamo per completare la fase di addestramento cosa che non ho ancora fatto ok allora continuiamo la nostra fase di addestramento nel fratello abbiamo guadagnato anche 20 mila iverons attacco al villaggio oh via oh yes e tu se tu saluto naturalmente e ringrazio sia for daniele il mitico crystal den che è passato a salutarmi naturalmente ragazzo come sempre vi ricordo amici di twitch che anche per voi che state guardando questo video in vod vi ricordo che nella descrizione nella chat troverete i link di due canali che naturalmente vi invito a visitare e ad iscrivervi mi raccomando ci vediamo e qui con te mani sotto mani sotto C'è la miseria Un momento Eh Scegliete che sta nella linea di fuoco Oh Oh Due colpi Allora un attimo solo che Arriva subito Dai manca un solo colpo Un colpo di pedale con la Marty Ok vai forse due No Aspetta ma qua c'è Ah ce n'è ancora un altro di persaglio Ok un po' di pazienza e poi Ecco questa non mi sta puntando Guarda 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 Aspetta se è misa Attenzione ragazzoni Vai va Bello spa Bello spa Bello spa Non vi preoccupate Tutto qualcosa Boom No Bambi ho capito dai Facciamo Alla nostra maniera Lo andiamo a prendere Ehi si è bloccato il mouse Mannaggia Si è bloccato il mouse Tuzzi tu Eh si Quasi Non Non spari Soprattutto quando mangi i fagioli Oh Faccerà miseria E qua mi sono messo nei pasticci Faccerà miseria E questi mi spugano così All'intrasatto Boom E dai 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 Boom Tu hai capito Sassi mi stava facendo Mi stava facendo la pellaccia Quel fringuellaccio Alla nostra Oh Ma da Pannaccia Miseria Boom Eh si si Boom Domani Allora Quasi quasi La Agire dai Boom Eeeh Vabbè Ci dice di raggiungere Quel punto Alla Oh Sassi Non sai che piacere Riaverti Con noi ci dovrebbe essere Non so se c'è ancora Ci dovrebbe essere Il mitico Crystal Poi ci dovrebbe essere Il mitico Fordanile Moreno che Si è andato a fare Quasi sicuramente La carica Merendoria Destroy the target Destroy the target Oh Ma io Questi Boom Che uno Boom Due Oh Ma è diventato Così Sprecio di Che cosa è davvero Non ho capito Questo Questo Oh Ok L'ho visto Vai 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 Boom Vai vai No Allora Allora qua per Per effetto della caduta Bisogna Sempre puntare A metà Ehm Ok Ce la siamo Spansata Boom Ehm 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 Noo M'hanno fregato e vabbè facciamo anche approfittiamo per fare una bella scuccatella di mani al nostro mitico dj sassi che ci è passato a trovare mi raccomando andate a seguire anche dj sassi che non ha portato niente però vedete tante volte se vi iscrivete a un canale piccolino potassi che quello si sente maggiormente motivato e quindi di conseguenza potassi che pure lui inizierà a fare un po di streaming quindi cosa aspettate iscrivetevi anche al canale dj sassi iscrivetevi al canale del nostro crystal town iscrivetevi al canale al nostro moren house mi raccomanda sauce iscrivetevi al canale dj sassi che lui fa musica da vivo se non ricordo male giusto se uno c'è il nick dj sassi uno dice quello fa musica da vivo house house musica house annaci e vabbè puoi sempre iniziare pure così come questi ci cercano a modi sport boh vediamo se siamo un po più fortunati va boh beh diciamo ma vabbè stavolta non faccio di testa mia vai giù non faccio di testa mia ma l'andiamo a fare secondo la secondo le linee guida linee guida che ci propone ecco è già visto ah ma questo già praticamente già appizzicati ci ha appizzicato ci ha appizzicato buah non ce l'abbiamo nemmeno graffiata boom vai ah veloce 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 ecco qua appena appena arriva dj sassi tutti quanti fanno la botta boom adesso quest'altro per fordaniare vicepreso il prossimo per dedadà dan esu per den di rife affitto no mi sembra che non ho finito deve se c'era qualcun altro mi sa Ah, ecco, vedi? Dove sei un bucchetto? Uuu, ti screccietto! Enemy hit! Vai, 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 vai! Boom! Vai, vai, boom! Rea, rea! Rea! Oh, yeah! Ok, abbiamo fatto un po' di a tuzze e tuzze. Anzi, come dice Moreno, tunzi tunzi. Fire at will! Fuoca volontà! E vabbè. Allora, vediamo se riusciamo. Allora, che sta aca. Vediamo un po', se riusciamo a fregarlo. Boom! Ottimo! Gaccia. Allora, quell'altro stava dietro a Massive. Eccolo noi. Non l'ho colpita. Oh, come è? Dai, 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 dai! Oh, yeah! Però siamo molto, molto al limite. Mi sa che manca stavolta ce la facciamo. Allora, quello non sta là. Vediamo se riusciamo a fregarlo così. Sì. No. Per forza. Opla. Mannaggia, mi ha fregato. Mi ha fregato quel disgraziato. Oh. Dai, ci facciamo un'ultima, un'ultima corsettina, poi ci congediamo naturalmente. E ci becchiamo naturalmente alla prossima. Per voi, amici di YouTube, naturalmente fatemi sapere se questa serie, se questo gioco vi sta piacendo così. Ve lo riproporrò, riproporrò, insomma, nei prossimi video. Ok. Ripacciamo e vediamo se siamo fortunati. Vai. Facciamo l'ultima session, poi ci salutiamo. Allora, ora appena balla spruite. Se staggendo guardando è poco di armatura. Staggendo guardando le linee. Beh. Vai. . Tut foi. Stavolta dobbiamo cercare di non farci fregare. Ecco, appellaggiamo la vista di per esempio. Oh. Tipo Uno Allora qua c'è un'altra linea di tiro però Dobbiamo cercare di rimanere il più possibile in questa linea di tiro perché Eccolo là vedi Dai 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 Boom Penetration Mi era quasi sembrata che si fosse mosso il bersaglio, non riusciva proprio a focalizzare la rossa. Boom. Oh. Ah. Gotcha. All right. Ho fame via con un altro spuntino. Vai, vai. Sì, i cesassi. Fai un spuntino anche carica merendoria anche per me, vai. E poi fra poco pure io penso di andare a fare carica fruttoria. Andiamo a mangiare un po' di frutti così si appara la pansy. Destroy the target, yeah. Questo qui. Boom. Allora il 72. No. Un po' più alto. Boom. Allora questa è più difficile. Dai, dai. Dai, dai. Wow, è stata una via davanti. No. No. Vabbè ragazzi. Mi sa che ci riproverò off camera perché... Ma no, vai. Facciamolo un'altra volta. Il problema è quello lì ragazzi. Il problema è che sta... Se quella... C'è il profilo basso ed è anche piuttosto complicato. Perché purtroppo c'ho sto mouse che non... Non è preciso. E di conseguenza è una bella figuraccia che mi va a fare. E tuss e tuss. All right. As you wish. Qua ce n'abbiamo 12 bersagli da fare fuori. Eh... Qua più che corrente ci vuole veramente una... Una fortuna esagerata qua. Vediamo se siamo più fortunati adesso. Mannaggia. Quello è solo quel carro lì che dà un fastidio esagerato. Ah. Vabbè, intanto mi devo stringere perché adesso mi trovo già... Sulla linea di tiro di quel carro. Ok. Fuoco a volando. Ok. Uh. Bum. Gaccia. Allora l'altro sta dietro alla... Vai, ah, ci fa. Bum. 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 Poi c'è l'altro là. Vabbè, lo facciamo alla vecchia maniera. Un po' più... Risolutiva. Vediamo se riusciamo a fregarlo, eh. Lo becchiamo alle spalle. Vabbè. Don't try this too. Oh. Ioi, 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 ioi. Ai, ai, ai. Questa ci fa la pellazza. Bum. Bene ma. Bene ma. Stiamo andando un po'... Vabbè. Allora come va va. Uh. Bum. Vai. Gaccia. Uh. C'è un altro lì. Uh. Va bene. Ho capito. Cambiamo strategia. Lo prendiamo di fianco. Ho capito. Bum. Uh. E vabbè. Uh. Mi sa che non la completiamo sta. sta sfida è bella difficile. Eh. Me la devo... Eh. Vabbè. Me la devo studiare per bene. Uh. Uh. Enrico carissimo. Enrico carissimo. Buonasera. E bentornato. Scusami ma. Ti ho letto soltanto ora. Enrico. Buon pomeriggio. Enri. Enri. Per caso sei il famosissimo Enrico che conosco? Sempre lui? Mi sa che ha cambiato nome. tutto K roggiero carissimo. Sei arrivato sul titoli di coda. Comunque caro Enri. ti do il benvenuto nel canale se sei nuovo del canale grazie ah Henry ok allora grazie ancora per il follow quando non ero online grazie naturalmente per il tuo per per aver scelto di seguire il canale naturalmente io ragazzoli mi congedo ci becchiamo domani più o meno sempre verso quest'ora continuo a portare un pochettino word of thanks così approfitterò anche per coloro che vogliono provare questo gioco e soprattutto poter riscattare in maniera totalmente gratuita i drop on sono praticamente tutta una serie di piccole piccoli bonus che guardando semplicemente questa live voi andrete a guadagnare monete quindi nel gioco monete i soldini e poi ci sono anche extra particolari quindi ringrazio ancora moreno per il sostegno ringrazio ringrazio naturalmente henry679 per il follow gli do ufficialmente benvenuto barra bentornato perché forse ho capito di chi si tratta ringrazio dj sassi per essere passato a salutarmi ringrazio naturalmente crystal poi ringrazio chi altro moreno c'era anche un'altra persona che dovevo salutare ringraziare adesso mi sfugge dj sassi l'ho salutato ui sparito comunque se mi sono dimenticato di salutare qualcuno vi chiedo scusa e quindi ancora una volta ringrazio moderatori moderaci moderatrici gli amici le amiche del canale tutti voi naturalmente che avete guardato questo video fino a questo momento come sempre vi ricordo che nella descrizione troverete il link sia il link di miei social ma anche il link che vi permetterà di poter acquistare Wondershare Filmora con uno sconto fino al 5% poi trovate anche il link per visitare ed acquistare dai piani bio www.ipianibio.it quindi ringrazio ancora dj sassi oleari enrico ecco ringrazio eri679 tutti voi che naturalmente vi siete fermati qui l'appuntamento è naturalmente per la prossima quindi è domani e quindi grazie mille a tutti grazie 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 naturalmente a tutti quanti voi vediamo se funziona la scuccatella di mani vai zio tab vai con la scuccatella di mani e parti con la sigla dei piani bio vai vai zio tab vai grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.